Musica Buonasera a tutti ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Io sono Technology Oggi siamo in compagnia di Manulesso Inter Anche in questo commento post partita L'Inter batte la spalla per due reti a zero Grazie ai gol di Mauro Icardi e Ivan Perisic Una gara nella quale l'Inter gioca abbastanza bene Abbiamo avuto delle difficoltà in particolar modo nel primo tempo La difesa si è comportata molto bene Milan Skriniar è ormai una sicurezza Un giocatore veramente molto importante per questa squadra Dalbert migliora gara dopo gara Andanovic è sicuramente un grande portiere Poi perché le dà qualcosa alla sbaglia ma è rare e umano Mi è piaciuto Gagliardini nel primo tempo Poi diciamo che nel secondo ha sbagliato qualcosa di troppo Ha preso un'ammunizione È in un momento un po' particolare il Gaglia Mi è piaciuto Candreba che diciamo sta migliorando Perisic formidabile, indispensabile per questa squadra Ottima partita anche per Mauro Icardi Gio Mario molto molto bene Gio Mario è sempre una sicurezza anche lui in mezzo al campo Abbiamo però come detto in precedenza sofferto un po' troppo Nel senso che la SPAL non è una squadretta Lo sappiamo Comunque è una squadra che è appena arrivata in Serie A Ma ha tanta voglia di rimanerci E di dire la propria Una squadra grintosa che mette sempre carattere nelle proprie gare E che secondo me potrà tranquillamente rimanere in Serie A Anche nella prossima stagione Ma questo l'ho già detto nel video che ho fatto 5 giorni fa Riguardante il pronostico di Inter SPAL Che non ho azzeccato Avevo detto 3 a 1 e finita 2 a 0 Scusatemi peraltro se ho la stessa maglia Ma è stato un caso Sono passati 5 giorni Insomma Non ci ho fatto caso stamattina In ogni caso Speriamo di poter continuare così Speriamo che l'Inter possa continuare a vincere E ad avere dei risultati utili consecutivi Speriamo di averne il più possibile Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo pronostico di una gala dell'Inter Anche di un commento post partita Lasciate un mi piace Commentate con le vostre opinioni riguardanti Inter SPAL 2 a 0 Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video Sempre e compleva storie Sempre e comunque Forza Inter Ciao ragazzi